È una storia di umori, di tensioni che appartengono alla mia giovinezza prima, che è stata fatta di lotta e di grande misera. L'Europa è stato un fatto di dramma. Sono vissuto nella atmosfera nazi, ho combattuto contro il fascismo, combatto oggi contro tutti i fascismi, ovunque siano. Questa è stata la mia filosofia, perché io credo che un artista, essendo una cosa profonda e che tocca nel profondo l'umano, non può accettare la guerra, non può accettare la separazione. Voi direte, che cosa c'entra questo con la pittura? Bene, io vi dico, questa è la mia pittura. Grazie a tutti.